Grazie a tutti. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale di oggi. Oggi è giovedì 20 aprile e apriamo questa edizione occupandoci di turismo. A Pesaro tanti hotel sono alle prese con le ristrutturazioni, categoria alberghiera che chiede alla regione sostegno in questo investimento nel segno della qualità delle mette turistiche. Allora partiamo con questo primo servizio. Si avvicina la bella stagione e gli alberghi del lungomare pesarese si preparano riaprendo ai turisti o temporeggiando per migliorare le loro strutture. In queste settimane sono una decina gli alberghi alle prese con ponteggi esterni o ristrutturazioni interne che puntano ad accrescere la propria qualità, riconosciuta ad esempio anche dal passaggio da 3 a 4 stelle come nei casi dell'Hotel Clipper e dell'Imperial Sport. Investimenti sulla qualità che però chiedono il sostegno della politica regionale. È un momento, è un periodo in cui stiamo ripartendo, è primavera quindi la nuova stagione sta partendo, gli alberghi si stanno rinnovando, abbiamo circa una decina di hotel che in vari modi stanno rinnovando le proprie strutture anche in maniera molto importante e molto pesante quindi con grandi investimenti. Pesaro ovviamente si prepara all'evento del prossimo anno, Pesaro 24 e quindi siamo tutti molto focalizzati su cogliere questo obiettivo che vuol dire per noi anche aumentare la qualità. Su questo quello che chiediamo è di poter ripristinare un vecchio bando della regione ormai del 2017 per avere qualche contributo in più da parte della regione considerando anche il fatto che il governatore si era speso proprio su questo ambito alla BID Milano dicendo che alcuni fondi potevano essere anche utilizzati sugli alberghi. Dal vecchio bando del 2017 rifinanziato nel 2020 su circa 300 progetti ne vennero finanziati 150. Solo nella provincia di Pesaro le richieste furono un'ottantina. L'APA chiede dunque che si riparta da lì, dai progetti in graduatoria e dai nuovi stanziamenti per chi vuole investire nei propri hotel dando giovamento all'immagine e all'attrattiva della meta turistica. Se vogliamo cogliere un turismo internazionale e quindi puntare come da indicazione, da direttive della regione, del comune ad attrarre turismo da altri paesi dobbiamo aumentare la qualità delle nostre strutture e dobbiamo avere ormai una qualità internazionale per i servizi che vengono richiesti. E dopo la prima apertura di Pasqua, anche fra 25 aprile e 1 maggio, gli alberghi pesaresi saranno di nuovo riempite dal tradizionale apporto dei tornei di basket che porteranno altre migliaia di persone nella città. Salutato l'esercito di cestisti dei tornei Ciaorudi e Olimpia che di fatto hanno dato il via al turismo pesarese nel periodo pasquale, il basket la fa da padrone anche nel ponte del 25 aprile e in quello del 1 maggio. E così da 28 anni con l'Adriatica Cup che da venerdì porterà in città 190 squadre per 4.500 presenze sul territorio e poi ne porterà altre 4.000 dal 28 aprile con le 160 squadre per la seconda parte del torneo che da 20 anni è anche dedicato alla memoria di Giorgio Marollo. Altri tornei, stessi problemi di manifestazioni sportive che crescono oltre la misura della ricettività del territorio. 26-27 squadre sono rimaste fuori, sono 190, siamo riusciti a metterne, ne abbiamo messi 110 a Pesaro e il restante su Cattolica e Gabice e questo ovviamente anche perché le strutture alberghiere un po' si stanno rinnovando, qualcuno ha qualche difficoltà col personale e quindi abbiamo dovuto anche usare la fine Romagna per sopperire alle squadre che non ci siamo riusciti a portare a Pesaro. Ad affiancare Ponzoni, APA o Tels è il comune di Pesaro che plaudono a questo annuale effetto di destagionalizzazione perfettamente in linea alla filosofia di Pesaro città del basket. Pesaro che risponde con 25 impianti sportivi a cui si aggiungono un'altra mezza dozzina fra Cattolica e Gabice Mare per ospitare tutte le categorie del basket giovanile. Parte dal mini basket quindi anni 9-10 fino agli anni 19 quindi abbiamo esordienti under 13, 14, 15, 16 e 17. Abbiamo circa 24 squadre per ogni categoria più il mini basket che sono una settantina di squadre quindi insomma un bel potenziale di gioventù a Pesaro per questa manifestazione che ricordiamo ha 28 anni quindi insomma una manifestazione siamo partiti da lontano 95 e ogni anno si è sempre migliorata e si è sempre maggiorata con le squadre quindi siamo un punto che dobbiamo lasciare le squadre quasi questo bene. Non bene forse è l'organizzazione di questi eventi secondo me la città dovrebbe partecipare un po' di più le agenzie pubbliche private dovremmo sederci a un tavolo e trovare una soluzione per poter coordinare questi grossi eventi tutti insieme perché solo il tour operator o l'organizzazione è difficile mettere insieme tutti i tasselli. Ed ora cambiamo argomento fanno discutere le nuove misure di sicurezza che si stanno apportando sul porto di Pesaro dove da questa mattina è partita l'installazione di paletti biancorossi a protezione della passeggiata del molo di Levante un'installazione decisa dalla capitaneria di porto con il perimetro di paletti che sarà poi unito da una catena. A commentare via social questa novità il consigliere regionale Andrea Biancani che ha apertamente contestato un provvedimento reputato superfluo in termini di sicurezza e dal pessimo impatto estetico su uno dei luoghi più suggestivi della città. Ieri abbiamo approfondito il tema dei tanti lavori pubblici che a Pesaro cambieranno l'area della stazione ferroviaria. Nell'ultima settimana è però anche ripartito uno dei cantiere i più discussi della città, quello del vecchio palasport di Viale dei Partigiani. È un luogo che sarà anche un contenitore importante in funzione di Pesaro Capitale della cultura quindi non soltanto per iniziative e eventi sportivi ma anche per spettacoli, momenti culturali così come abbiamo sviluppato e condiviso anche con Corroff stesso ad esempio. Un cantiere da 3 milioni e mezzo di euro che è ripartito la scorsa settimana con un nuovo appalto aggiudicato ad Unati, un'associazione temporale di imprese composta da tre dite del territorio, tutte della provincia di Pesaro Urbino su cui c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione tant'è che la stessa direzione lavori in questa prima fase è assegnata al diregente del servizio per le pubbliche che ci vede in prima linea per concludere un intervento importante come dicevo per la città ma anche per portarsi dietro anche quel rilancio di tutta quella zona che è un'area di collegamento tra il centro storico e il mare e che quindi poi si porterà dietro anche un momento di motore, di sviluppo economico di una zona importante per la città. Lavori pubblici in fermento anche a Vallefoglia dove si sta completando la realizzazione della nuova piazza adiacente al nuovo municipio inaugurato proprio lo scorso gennaio. Ne abbiamo parlato quindi con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Stanno proseguendo i lavori in piazza adiacente al nuovo comune di Vallefoglia, a che punto sono? Sono a buon punto, penso che verso la fine del mese dovremo essere in grado di poterciare inaugurare questa piazza, saranno a breve funzionanti giochi d'acqua, le illuminazioni, le panchine, la sistemazione del verde. È una piazza importante, molto grande, piazza grande che serve il comune, che serve la palestra, che serve la casa della salute, nonché casa di comunità che sarà sempre più potenziata, rafforzata. E poi le scuole, le scolaresche della Federico da Montefeltro, che è qui a fianco al comune, le scuole della scuola materna e per la comunità, perché il centro commerciale di via Piola Torre ha finalmente una piazza molto grande, molto carina, già frequentata da giovani e anche persone più grandi, che naturalmente avranno un luogo di ritrovo. Faremo iniziative culturali, iniziative di tutte le associazioni che ci sono, penso alle compagnie dialettali, ai cori, alle bande, alle orchestre, insomma. E poi soprattutto le scuole, perché le scuole sono i primi fruitori, essendo qui attorno al comune diverse scuole della città di Vallefoglio. E poi bisognerà attribuirle un nome? Ma noi in un primo momento abbiamo chiamato Piazza del Popolo, stiamo ragionando, c'è chi pensa di fare la Piazza dei Cittadini, la Piazza Grande, in onore a Lucio Dalla, una piazza comunque importante di ritrovo e di chiacchiere, di comunità, una piazza che dovrebbe essere vissuta. Non so cosa succederà quando i bambini vedranno tutti questi giochi d'acqua, che naturalmente potranno godere, insomma, soprattutto nel periodo estivo, perché d'inverno è un po' difficile utilizzare i giochi d'acqua, però è un servizio in più che c'era necessità. Probabilmente faremo, non so ancora, non abbiamo deciso, ma anche la manifestazione del 2 giugno, consegneremo, diciamo, la Costituzione della Repubblica Italiana agli studenti, insomma, le iniziative più ne arrivano e più siamo contenti, perché la piazza è fatta per i cittadini. Ha parlato del 2 giugno, quindi l'inaugurazione della piazza stessa dovrebbe arrivare prima? Stiamo guardando, appena è finita metteremo una data quanto prima e poi stiamo già pensando all'inaugurazione del teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia, perché stiamo andando avanti abbastanza, diciamo, nei tempi stabiliti, probabilmente prima dell'estate saranno finiti i lavori, quindi o fine estate o i primi di settembre dovremmo poter fare la prima iniziativa in quel luogo di 336 posti che, parafrasando, dopo l'inaugurazione del comune, l'inaugurazione del depuratore, l'inaugurazione della piazza, è l'ultima delle cose grosse e importanti che lasciano il segno, perché sia questa piazza, sia il comune, sia il depuratore, sia il teatro sono quattro opere che lasciano il segno nella storia dei prossimi 50 anni di questa vallata. Vi segnaliamo che questo pomeriggio nel comune di Macerata Feltria è stata chiusa la strada fogliense in entrambe le direzioni a causa di un incidente fra due autovetture avvenuto attorno alle 15. Sul posto, vigili del fuoco, polizia e un'ambulanza che ha trasportato un ferito in codice rosso all'ospedale di Urbino. Lutto nella cultura pesarese è morto ad 82 anni Agostino Vincenzi, stimato ex professore di disegno al Liceo Marconi di Pesaro, nonché regista, cineasta e autore di una corposa produzione di film, documentari, cortometraggi e allestimenti teatrali. Ed ora ci occupiamo di Conservatorio Rossini di Pesaro che come ogni anno apre le sue porte alla città per far scoprire Palazzo Olivieri, ma anche l'offerta formativa dell'istituzione musicale cittadina. L'appuntamento è per sabato 22 aprile. Sabato 22 aprile il Conservatorio Rossini aprirà le porte alla città di Pesaro. Sì, sabato 22 aprile sarà per noi una grande festa perché in quella giornata avremo modo di fare veramente in maniera ampia, ascoltare tutta l'offerta formativa che il Conservatorio è in grado di offrire, partendo dalla musica lirica, musica jazz, la musica classica, la musica contemporanea, la musica elettronica. Quindi il Conservatorio potrà mostrarsi con la sua contemporaneità attraverso la bellezza di 300 ragazzi impegnati in tutte le formazioni, dalle formazioni da camera fino agli ensemble jazz. Insomma avremo veramente una varietà veramente ricca e piacevole, divertente. Tutta la parte musicale si svolgerà soprattutto all'interno del Palazzo Olivieri ma anche qualcosa davanti al Palazzo Olivieri. Un'altra cosa molto importante è che quest'anno condividiamo questi punti di informazione con anche altre scuole perché spesso e volentieri quando in questa giornata si avvicinano noi giovanissimi studenti, probabili e futuri studenti con le loro famiglie magari possiamo trovarci anche di fronte a famiglie con bambini ancora piccoli. Allora per questa ragione noi quest'anno abbiamo pensato di fare questo Open Day condiviso anche con le realtà ad indirizzo musicale strumentale. Quindi per questa ragione abbiamo voluto coinvolgere il Liceo Musicale Marconi per il quale ci saranno un paio di referenti loro che spiegheranno come si accede all'iscrizione al Liceo Musicale. Ci sarà anche un referente della Scuola Media Don Gaudiano dove anche lì è previsto l'indirizzo strumentale. E poi sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno. Sì esattamente, le iscrizioni quest'anno sono aperte sino al 15 di maggio e questo è importante saperlo perché per il primo anno anche il Conservatorio di Pesolo come altri conservatori italiani abbiamo anticipato le ammissioni. Quindi le ammissioni saranno nel mese di giugno però le iscrizioni scadono il 15 di maggio. Quindi è importante informare le famiglie, i ragazzi, tutti coloro i quali sono interessati. Questo non vorrà dire per forza di cose che non potrà esserci anche una finestra nel periodo di settembre perché essendo il primo anno che noi anticipiamo le ammissioni potrebbe essere che il livello di fare entrare un meccanismo che prima non c'era potrebbe anche prevedere la riapertura a settembre di un'altra finestra. Il Comune di Fanno ha sancito oggi un accordo con Ferrovie Italiane per la realizzazione di un nuovo sottopassaggio ferroviario ciclopedonale in Viale Cairoli che collegherà centro e mare senza ostacoli. I lavori inizieranno a giugno e dovrebbero essere completati nella prima metà del 2024. Martedì 25 aprile in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della liberazione d'Italia il teatro sperimentale di Pesaro ospita il duce delinquente. Si tratta di uno spettacolo a due voci, quelle di due grandi divulgatori storici come il giornalista Aldo Cazzullo e lo scrittore Monio Vadia che porteranno il pubblico ad un approfondimento teatrale e in musica su ciò che è stato il fascismo. Mentre sabato 22 aprile al centro Arti Visive Pescheria inaugura alle ore 12 la mostra Super Basket 45, i tesori della memoria. La mostra curata da Alberto Cecere celebra il 45esimo compleanno della testata Super Sport con l'obiettivo di raccontare la storia gloriosa della palacanestro da fine 800 ai giorni nostri attraverso cimeli, fotografie e riviste appartenenti alla collezione dello stesso Cecere. L'esposizione sarà visitabile fino al 4 giugno. Continuiamo a parlare di sport dal basket in mostra a quello giocato. Nel turno infrasettimanale di ieri è arrivata infatti la quinta sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro caduta a Treviso 96 a 82. Sconfitta urticante per la VL crollata nell'ultimo quarto e capace di passare da 11 punti di vantaggio fino a un passivo di 14 punti. Cittman è stato il miglior realizzatore con 17 punti a referto. La VL resta ottava a 24 punti a pari punti con Brescia. Domenica alle ore 17 i biancorossi tornano alla Vitrifrigo Arena contro Trieste. Infrasettimanale amara anche nella pallavolo con la Megabox sconfitta 3 a 1 in casa delle piemontesi del Pinerolo che trascinano così Vallefoglia alla bella di gara 3 per accedere al prossimo turno del playoff per la Challenge Cup. E dopo un weekend di sosta riparte invece il campionato di calcio a 5 per l'Ital Service Pesaro chiamata alle ultime quattro gare di stagione. In questa intervista il presidente Lorenzo Pizza analizza il rush finale e un futuro che non lo vedrà più presidente. Archiviata la sosta mancano quattro giornate al termine della regular season della Serie A di calcio 5 e l'Ital Service è calata mani e piedi in un rush finale che scatterà domani venerdì 21 aprile alle 20.30 con il big match casalingo contro l'Olympus Roma. Poi il 25 aprile ad Avellino con la Sandro Abate prima dell'epilogo del 3 aprile in cui si ospiterà la fel di Eboli e della chiusura del 6 maggio con la trasferta veneta in casa del Petrarca. Quattro gare in cui l'Ital Service Pesaro si deve innanzitutto giocare l'obiettivo prioritario della salvezza. Il nostro obiettivo deve essere il nostro obiettivo chiaramente poter giocare la Serie A è un grosso vantaggio per tutti, un grosso vantaggio per il pubblico, un grosso vantaggio per la città, un grandissimo vantaggio per gli sponsor perché avrebbe un'attrazione diversa. Però quello che ho detto non facciamoci una malattia. Quattro partite che dividono da Unital Service che nel 2023-2024 si annuncia già estremamente diversa. È una formula che a me piace tantissimo, è una formula che non mi vedrà più come presidente e quindi mi vedrà solo come sponsor, forse neanche come main sponsor perché ci sono altre aziende interessate ad entrare ed affiancarmi. Comunque mi dovrà sempre partecipa in primo piano perché garantirò la mia sponsorizzazione di Unital Service ma soprattutto garantirò questa unione tra i nostri 24 sponsor consorziati che hanno costituito questo mini consorzio che comunque finanzia questa bellissima squadra e questa meravigliosa società. Parallellamente si sta costruendo un CDA con persone di livello, persone che comunque sono sempre state attaccatissime a questa società e quindi che hanno vissuto insieme a me, insieme alla mia famiglia, la storia dell'Ital Service Calciacinque, quindi l'avvocato Nicola Monzi, ci sarà mia moglie Silvana Marinelli, Lele Ortolani che è responsabile del settore giovanile che insieme alla Betti Polidori che sarà sempre nel CDA, hanno fatto un lavoro straordinario di reperimento dei bambini e quindi di costruzione proprio del settore giovanile. Probabilmente ci sarà anche la figura del dottor Riccardo, del commercialista Riccardo Pierpaoli. Quindi ecco, la costituzione, la costruzione di una società parallela, di un modus operandi parallela, quello di avere un solo presidente a capo di tutto, a me piace tantissimo. Nuova Ital Service ma già guidata da una filosofia ben precisa. Non c'è un ridimensionamento, assolutamente. C'è un qualcosa di nuovo però che comunque, e questo è un po' quello che per tanti anni avrei voluto fare e che purtroppo è stato un pochino sempre soffocato perché comunque siamo stati presi dalla frenesia dei risultati, delle vittorie, di tutto, di tutto quello che abbiamo vissuto e va bene così. Però adesso è il momento di affiancare a giocatori di esperienza, giocatori di un certo rilievo, giocatori di una certa classe e solidità, ragazzi. Noi vogliamo fare questo, noi vogliamo far cominciare a esplodere questi 250-280 ragazzi che giocano nel Ital Service Calcio 5, vogliamo farli crescere e vogliamo portarli a giocare in Serie A. Questo è il nostro sogno, questo è il mio sogno e la società, il CdA è d'accordissimo con me, quindi ci sarà un Ital Service forte, però un Ital Service diversa perché vedremo tanti giovani del posto di Pesaro e delle Marche affiancare campioni come Giulio Don Rivera, Schiocchetti, Fortini, Tony Dandel, che comunque saranno dei pilastri che comunque noi assolutamente vorremmo, lo stesso Davide Putano, che noi vorremmo comunque che continuassero a rimanere a Pesaro perché devono comunque guidare questa nuova riforma, questa nuova fondazione, questa società che deve partire per forza di cose dal settore giovanile. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV perché questa sera torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, saremo in diretta, ve lo ricordo sempre, sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito. Alle 21.20 Marco Cadeddu intervisterà Amos Benevelli, ex giocatore della VL, Marco Bedinotti che è giornalista e opinionista. Chiaramente parleremo della sconfitta di ieri ma anche della prossima partita. E poi domani torna la nostra segna stampa, vi aspettiamo come sempre da lunedì al sabato alle ore 7.20 in diretta. E vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione, adesso che si avvicinano le belle giornate, che magari state anche meno a casa, potrete avere sempre con voi Rossini TV gratuitamente scaricando la nostra applicazione dove potete seguire i nostri programmi in diretta, potete mandarci le vostre segnalazioni e anche chiedere informazioni. Adesso invece vediamo come sarà il meteo i prossimi giorni, vi auguro una buona serata.